Il Leone di Caprera è una goletta costruita nel 1879 dal maestro Dasha Luigi Briasco, fortemente voluta da Vincenzo Fondacaro e dai suoi due amici Orlando Grassoni e Pietro Troccoli, per realizzare il sogno di attraversare l'oceano dall'Uruguay all'Italia. I tre compirono con successo l'impresa partendo da Montevideo il 3 ottobre 1880 e giungendo a Livorno il 9 giugno 1881. La goletta, di 9 metri di lunghezza, di tre tonnellate di stazza armata di due alberi, fu chiamata Il Leone di Caprera, in onore di Giuseppe Garibaldi, eroe dei due mondi, idealizzato dai marinai come il Leone che legò parte della sua vita all'isola di Caprera. Le caratteristiche di costruzione e armamento fanno del Leone di Caprera un esemplare unico. Il capitano Vincenzo Fondacaro, nel suo diario, descrive così l'imbarcazione. È costruito in legno di cannella, algarrobo, noce, pinu bianco d'America, la coperta è ad oghe larghe un pollice e mezzo, alternate fra noce e pinu. Tutto inchiodato e foderato in rame, ridornato in bronzo. Insomma, è fatto artisticamente col disegno di darla a qualche museo navale d'Italia e non già per uso di mare. Si tratta di un'imbarcazione da di porto a vela, di tipo baleniera. All'interno sono presenti due cilindri di rame sigillati, destinati a fungere da ausili al galleggiamento, in caso di cedimenti del fasciame. Le dimensioni sono 9 metri di lunghezza per 2,30 di larghezza, puntale di 110 centimetri circa. L'altezza di costruzione a prua è di circa 160 centimetri. L'equipaggio che compì l'attraversata era composto da Vincenzo Fondacaro, Orlando Grassoni e Pietro Troccoli. Vincenzo Fondacaro, nato a Bagnara Calabra nel 1844, emigrato in Inghilterra, aveva lavorato su navi mercantili subendo nel 1864 un naufragio. Negli anni successivi iniziò a progettare una attraversata dell'oceano. Divenuto nel 1876 capitano della marina mercantile inglese, nel 1880 compì la attraversata sul Leone di Caprera. Il 30 maggio del 1893 salpò da Buenos Aires per un'altra sfida che si sarebbe rivelata senza ritorno. Nel mese di ottobre, infatti, il governo argentino ne annunciava la scomparsa in mare. Orlando Grassoni, nato ad Ancona nel 1844 e morto a Genova nel 1901. Marinaio con il padre, nel 1860 tentò di arruolarsi clandestinamente nelle camicie rosse di Garibaldi. Navigò in America, Australia ed Asia subendo diversi naufragi. Nel 1874 conobbe Vincenzo Fondacaro partecipando nel 1880 alla attraversata dell'Atlantico sul Leone di Caprera. Si spense a Genova nel 1901. Pietro Troccoli, nato a Marina di Camerota nel 1852. Era emigrato giovanissimo in Uruguay. Lavorando nei cantieri navali di Montevideo, vi conobbe Fondacaro con il quale partecipò alla costruzione del Leone di Caprera. Al termine della attraversata si recò a Caprera per consegnare a Garibaldi l'album con le firme degli italiani emigrati in Uruguay ed Argentina. Stabilitosi in Uruguay, si sposò ed ebbe nove figli. Morì a Montevideo nel 1939. Informazioni dettagliate sono giunte a noi grazie al diario di Vincenzo Fondacaro, che ebbe cura di annotare giorno dopo giorno ciò che avvenne durante l'intera attraversata. Il diario, pubblicato nel 1881, racconta per esempio della difficoltosa gestione delle provviste, divenute insufficienti già a metà del viaggio. Curioso l'episodio che avvenne il 25 settembre 1880. Mentre Leone si accingeva la sciaerio della plata, alcuni creditori di Fondacaro, per compensare i crediti vantati, gli confiscarono le botti d'acqua. La zagorra mancante fu compensata con mezza tonnellata di ferro, materiale inutile su un'imbarcazione rifinita in rame. La raccolta dell'acqua pivana divenne così l'unica possibilità di approvvigionamento. Sempre dal diario sappiamo che il 9 gennaio 1881 i tre eroi erano a largo di Las Palmas, nelle isole Canarie. Il 23 gennaio raggiunsero Gibilterra e finalmente il 9 giugno 1881 conclusero il viaggio a Livorno. Per l'attraversata compiuta i tre membri dell'equipaggio furono decorati da Red Italia, Umberto I di Savoia con la medaglia d'oro. Il leone di Caprera subito dopo l'impresa fu trasferito nel laghetto della Villa Reale di Monza. Tutt'oggi proprietà del Comune di Milano, la Goletta è stata trasferita a Livorno il 23 marzo 2007 per essere sottoposta a restauro da parte dell'Associazione per il recupero delle imbarcazioni d'epoca, secondo un progetto approvato dall'Istituto Centrale per il Restauro della presumibile durata di due anni. Grazie. Grazie a tutti.